Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Due sconosciuti ripresi mentre girano di notte nel giardino per quasi un'ora Poi entrano in casa e svuotano il frigo E' tornato l'inverno, temperatura impicchiata, vento forte, mareggiate sulla costa Neve di primavera sul Monte Nerone Camion perde il carico dopo un incidente di stesa di patate sull'autostrada adriatica La mezza festa dei fanesi con la tradizionale uscita nella pinetta di Ponte Metauro Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Iniziamo con la cronaca Topi d'appartamento in azione, questa volta nel quartiere di Gimarra Con le immagini della videosorveglianza che li ha immortalati Vediamo tutti i particolari nel servizio Una Pasqua un po' movimentata qui nelle vostre abitazioni Purtroppo sì, non ce l'aspettavamo E' una sorpresa abbastanza amara E piuttosto paurosa Più che amara Perché noi qui non abbiamo mai avuto Di questi eventi Però ecco, sono arrivati anche qua A Pasqua la sorpresa c'è stata Per i fratelli Battistini Ma non quella dell'uovo Più amara e movimentata La visita dei ladri Che con la solita tecnica del buco nell'infisso Hanno violato una delle tre abitazioni dei fratelli Che vivono nel loro podere In tre abitazioni distinte A pochi metri l'uno dall'altro Hanno agito presumibilmente dopo le tre e mezza di notte Si presume gente non italiana A cercare queste case un po' isolate Cioè, hanno dato l'impressione che ha fatto tipo un sopralluogo Come agire E poi alla fine hanno deciso di andare nell'appartamento Di mio fratello Che è più vicino al punto dove sono entrati forse Non lo so Prendente hanno usato la tattica del foro della maniglia Hanno forato la finestra Con un gancio hanno aperto la maniglia Sono andati in camera da letto Gli hanno dato, si presume, un sonnifero Uno spray che ti fa dormire E hanno ravastato dentro l'appartamento Mi hanno portato via il portafoglio della moglie 70 euro, non è che Hanno vuotato il frigo praticamente Al di là dell'esiguo bottino e dei postumi del narcotico inalato Che ha procurato mal di testa e nausea Al malcapitato fratello Rimane la sensazione di insicurezza e di sconcerto Che prende dopo che la tua dimora è stata violata da malintenzionati E adesso è stato d'animo vostro Insomma, un po' così La paura che si ritornano Solo questo Si ritornano Io ho fatto regolarmente denunce ai carabinieri Ma la paura c'è Ancora cronaca, ci spostiamo a Urbino Nella giornata di ieri 17 aprile La Polizia di Stato ha identificato un 31enne originario del Pescarese E' ritenuto responsabile di atti osceni In luogo pubblico consumati in questi giorni Il giovane Nell'ultimo periodo abitava a casa della fidanzata Studentessa universitaria E almeno in sette occasioni Nel centro storico si è reso protagonista Di atti di esibizionismo Nei confronti di giovani ragazze Il 31enne infatti dopo averle avvicinate Mostrava le parti intime Per poi allontanarsi velocemente In città, essendosi sparsa la voce Del ripetersi di questi episodi Diverse donne mostravano non poca preoccupazione Nel camminare in strada da sole Le immagini dei poliziotti Le indagini che hanno consentito al commissariato Di portare così all'identificazione dell'autore Sono in corso tuttora certamenti Per stabilire la sossistenza di ipotesi di reato A carico del giovane Il quale in almeno un'occasione Ha compiuto questi atti osceni Nelle vicinanze di un istituto scolastico Urbinato e frequentato da minori E ci sono giunte diverse segnalazioni In questi giorni Dello stato di degrado E dei danneggiamenti Causati alle strutture Della stazione ferroviaria di Fano Che è un biglietto da visita Un ingresso per i tanti turisti Che arrivano per vacanze e festività Noi siamo andati con le nostre telecamere A vedere di che cosa si tratta Le appena trascorse festività pasquali Hanno rappresentato un'occasione Per mettere in ordine Anche in vista della stagione estiva La zona del lungomare a Fano Ma purtroppo Stessa sorte Non è toccata alla stazione ferroviaria Che tra carenze strutturali E immondizia Rischia di non essere così accogliente Per chi arriva A visitare la nostra città Il sottopasso Quando non è allagato Causa pioggia Seppur abbellito con murales Viene usato come bagno improvvisato E cestino per l'immondizia E il cattivo odore Che si respira attraversandolo Nella testimonianza E poi indicazioni imbrattate da scritte Segnaletica datata E fontana senza acqua Rappresentano solo alcuni degli interventi Che se fatti Renderebbero più accogliente la zona Il passaggio dei disabili E delle biciclette È spesso ostacolato L'ascensore non è funzionante Così una persona in carrozzina Non può scendere o salire In maniera autonoma E gli spazi per i ciclisti Non favoriscono le manovre necessarie Anche per il trasporto a mano E infine la videosorveglianza Che a detta di molti Andrebbe stesa maggiormente Sia in tutela dei mezzi parcheggiati Che come deterrente Contro gli episodi criminali Il tempo instabile Ha segnato queste vacanze pasquali Ma per alcuni fanesi Alcuni commercianti fanesi È stato un periodo Tutt'altro che facile Vediamo il perché Quella appena trascorsa È stata senza dubbio Una Pasqua dal punto di vista Meteorologico All'insegna della variabilità Ampie schiarite di giorno Con un cielo sereno Ma che dal tardo pomeriggio in poi Evolveva verso il brutto tempo Con pioggia e vento Che interessava un po' tutte le marche In particolare nella provincia di Pesaro Si sono verificati piccoli smottamenti Come nella zona di Caminate Dove da tempo Permane una situazione di criticità Che il maltempo non fa altri che aggravare Con seri pericoli Come ci dicono i residenti Che da tempo chiedono un intervento Dell'amministrazione pubblica Su questo tratto di strada A Fano La zona che più ha pagato Un conto salato In termini di conseguenze Per la pioggia battente È stata anche qui Quella che da tempo Attende un intervento Via Pisacane Dalle dieci e mezzo Ho cominciato a piovere tanto E qui come al solito Se non corriamo Siamo stati qui fino La mezzanotte e mezzo A vigilare A mettere Le barriere Nelle porte Perché avevamo il piazzale Questo qua pieno d'acqua E con il rischio Che poi ci entra anche dentro E poi Fortunatamente il comune Ci ha mandato la spazzatrice Ci ha levato Un'ora buona Di lavoro Per pulire tutto il fango Che entra Perché L'acqua Che viene dalle vie San Lazzaro Proveggian Santi Portafango E poi qui dopo Diventa una palude Non puoi neanche più Passare con le macchine Un problema che si ripete Da diverso tempo Se non fanno questo collettore O fanno qualche via Di fuga Dell'acqua L'assegnazione Mi sta a scoramento Per chi ormai Da tempo Vive questa situazione E che ormai Diciamo Ci ha fatto un po' il callo Ma per alcuni È stata la prima volta Se poi a questo Aggiungiamo Che a distanza di 24 ore Dovrà inaugurare La sua nuova attività Si aggiunge al danno Anche la beffa Qui bisogna che qualcuno Faccia qualcosa Per sistemare Il problema dei tombini Perché non si può Che ogni volta Che piove Ci sia questo Allagamento Così Anche perché Se no mi conviene Cioè Da buttare via tutto Qua dopo Cosa faccio? Acqua Anche nelle attività Commerciali limitrofe Dove anche qui L'apparatia preventiva Davanti alla porta È la sola protezione Ma dato che erano Giorni di festa Molti non hanno fatto In tempo a posizionarla E l'acqua Non ha fatto sconti A nessuno Allagato Il negozio gestito Da cinesi E quello di veicoli A due ruote Immagini molto eloquenti Che già da sole Raccontano Quello che è avvenuto In quei momenti E proprio sul maltempo Vogliamo fare un focus Come sempre facciamo Con Francesco Cangiotti Di geometeo.it Per sapere Il tempo Che attualmente Sta attraversando Il nostro settore E quello che verrà Vediamo che cosa Ci dice l'esperto Allora Sul fronte del tempo Cangiotti Abbiamo visto Questo ponte pasquale Un po' All'insegna Dell'instabilità Sì ecco Abbiamo avuto Una prima visaglia Appunto Proprio nelle giornate pasquali Poi in queste ore Sta aggiungendo Un nucleo di aria Molto fredda Di Norigia e Artica Che appunto Determinerà E sta determinando Già in queste ore Un deciso peggioramento Con venti forti Precipitazioni diffuse E anche un deciso Calo delle temperature Che appunto Favorirà Nelle prossime ore Anche l'abbassamento Della quota neve Fino a raggiungere Anche i 7-800 metri Quindi quote Decisamente basse Per il periodo L'evoluzione invece Nelle prossime 24-48 ore Qual sarà? Ecco Questa parentesi invernale Appunto Caratterizzata da quest'aria fredda Ci terrà compagnia Ancora per diversi giorni Fino alle prime ore di venerdì Quindi anche per domani E per la giornata di giovedì Avremo ancora una diffusa instabilità Con rovesci alternati a schiarite Ancora temperatura al di sotto della media Con venti forti settentrionali E appunto Occasione ancora per nevicate Nella giornata di domani E anche in quella di giovedì Fino a quote alto collinari Quindi qualche fiocco di neve Si potrà far vedere Anche attorno ai 5-600 metri Con accumulo di qualche centimetro Oltre gli 800-1000 metri Ed ecco le immagini Che avete visto Sono quelle appunto Della ispezione Che ha fatto Francesco Cangiotti Sul Monte Nerone Avete visto 5 cm di neve Cime e tetti imbiancati E appunto eccole qua Le stiamo vedendo in questo momento Sono anche caricate sul suo sito Geometeo.it Nevicata in atto attualmente Sul Monte Nerone Quindi neve di primavera 5 cm di manto nevoso Dicevo al momento E quota neve Sopra i 700 metri E rimaniamo sul versante Il traffico Il traffico per in gran parte Nel pomeriggio è proceduto Su una sola corsia Oltre al recupero dei tuberi Gli operai della società autostrade Per l'Italia Hanno dovuto riparare Anche la barriera sul luogo La polizia stradale E i vigili del fuoco Giornata speciale per molti fedeli Fanesi e non Che si sono recati Nella pineta di Ponte Metauro Al santuario della Madonna Ponte Vediamo Per i fanesi e non solo Il martedì di Pasqua Lo si trascorre nella pineta di Ponte Metauro Come ogni anno Si tiene qui la festa Della Madonna del Ponte In onore di Maria Venerata Nella santuario del Ponte Metauro Trascorrendo il tempo Tra un pranzo al sacco Una pesca di beneficenza E momenti di preghiera Tantissima gente È arrivata come sempre Sin dalle prime celebrazioni del mattino In questo luogo Di raccoglimento E di spiritualità palpabile Anche chi ormai dovrebbe essere Assuefatto a questo fiume di devoti Come il parroco Don Antonio Biagioli Rimane ancora incantato Per la venerazione Di questo posto Cambiando la vita E anche le generazioni Questa festa poi pian piano Si sbiadisca E perde un pochino il suo senso Invece non è così Io per dire Da questa mattina Abbiamo cominciato Ininterrottamente Messe Un'ora dopo l'altra È stato pieno di persone Ma pieno Nonostante l'inclemenza del tempo E sono convinto Che anche questa sera Quando verrà il Vescovo Non sapremo proprio Dove mettere la gente Insomma Non tutti i posti sono uguali Non è vero Che tutti i posti sono uguali Ci sono dei posti Questo non sarà Né Lourdes né Fatima Però ci sono molti posti Cari alla Madonna E cari alla popolazione Di Fano Perché Non sono parrocchiani nostri La nostra è una parrocchietta piccola Ma vengono sempre Ricordandosi Di questo appuntamento Mi piace tutto Quindi Quindi non viene solo per la festa No, no Io ci sono sempre Tutte le domeniche È un bel luogo Un bel Sì Che con Don Antonio Abbiamo un buon rapporto La festa è la festa Un po' di tutti voi Eh Sì Certo E quindi un posto di famiglia Eh sì Eh sì Io sono nata qui Non si Sono venuta sempre qui C'era Don Gualfardo Poveretto Che io Lo amo Lo stimo Perché era Veramente Un bravo sacerdote Però c'è tanta gente Che viene qui Anche da fuori Sì È vero Io non so Cos'è questo luogo È qualcosa che Non si può fare a meno Di venirci In questa ricorrenza Insomma Grande festa Lucrezia di Cartoceto Per i 101 anni Della signora Palma Manna Di Ponte Murello A festeggiarla Le figlie Micalina e Luciani Insieme al marito I nipoti Pronipoti E gli amici La signora Palma Vive La sua vita In serenità Insieme a figlia E genero Una donna Che i parenti Descrivono Sempre con il sorriso Sulle labbra E la battuta pronta E che non ha affatto Paura dell'età Che avanza E sempre coccolata Dai vicini di casa Che le tengono compagnia Durante il giorno Tanti auguri a te Tanti auguri a Palma Tanti auguri a te E auguri signora Palma Anche da parte nostra Ed ora cambiamo argomento Parliamo di musica Progressivo e psichedelico Il rock dei 24 hours Che per il loro sesto lavoro Hanno scelto la casa della musica Di Fano Vediamo e sentiamoli anche Hanno scelto Fano E la casa della musica E della tecnologia Per riunirsi E comporre le basi Del loro nuovo lavoro musicale Sono i 24 hours Storica rock band Psichedelico progressiva Che dopo il successo Di Left 2 Live Concept album A tematica essenzialmente Di tipo sociale Uscito nel 2016 E ottenendo un grande successo Sia di pubblico Che ti critica Si sono messi al lavoro Per comporre i brani Del sesto disco Noi siamo un gruppo Che ha sempre avuto Molteplici influenze Ma più che altro Singolarmente Abbiamo molteplici ascolti Siamo un gruppo Di stampo Essenzialmente Progressivo E psichedelico Perché suonare in Italia Rock è una cosa Ormai da Come si dice Da pazzi furiosi E' tanto una roba Veramente molto difficile E quindi Però noi andiamo avanti In perterriti Sulla nostra strada Non penso che A meno che Non succeda qualcosa di grosso Qualcuno ci possa fermare Un'unione artistica Nata ormai Più di 30 anni fa Era il 1985 Infatti A Bari Dove attualmente Vive uno dei componenti Della band Antonio Paparelli Mentre a Fano Vivono il pianista Cantante Paolo Lippe E il bassiste Paolo Sorcinelli Mentre Marco Fratello di Paolo Lippe Vive a Bergamo E proprio La loro dislocazione Geografica Sparsa per l'Italia Rende molto difficili Le reunion Del gruppo Che per questo Devono avvenire spesso Durante i periodi di vacanza Come quello appena trascorso Dunque siamo La Casa della Musica Perché Perché ci hanno ospitati Semplicemente Sono stati Di una gentilezza Incredibile Poi perché è una bellissima struttura È un posto Molto affascinante E perché siamo venuti A conoscenza Appunto che c'era Questa possibilità Abbiamo chiesto È stato veramente Di una semplicità Quasi disarmante Ci siamo riuniti Per dare seguito A questo lavoro Il che non sarà semplice Perché quando si deve Fare seguito A una cosa Che ha avuto Un notevole È venuta bene Anche dal punto di vista Tecnico E ha avuto anche Un riscontro Si può rischiare O di ripetersi In maniera sterile Oppure anche Di deludere Chi Le aspettative Di chi Ha ascoltato Left to Live Una sorpresa Infatti Che tra le tante Collaborazioni ormai Collaudate Come quella Col chitarrista Giovanni Lombardi E la cantante Elena Lippe Che si occupa Anche dei testi Vedrà la partecipazione Del polistrumentista Dei Taxi du Moon Blaine Reninger Che per un periodo Ha anche vissuto a Cagli Partecipare Alla realizzazione Del disco E ci legina Sulla torta La cover Di un brano Dei primi Pink Floyd Ancora segreto Il titolo Recentemente riesumato Nella collezione Di inediti Early Years E mai pubblicato Negli album ufficiali Dobbiamo ringraziare Paolo Casisa Che è presidente Appunto Dell'associazione Il comune di Fano Che ci ha ospitato E che ci ha messo a disposizione Questa bellissima stanza Insonorizzata Con tutti gli strumenti E Grazie a tutti Siamo molto contenti Di aver ospitato I 24 Hours E sicuramente Ci sarà una collaborazione Stabile Che apriremo I 24 Hours Sono uno dei gruppi Esponenti di questo genere musicale Degli anni 90 Quindi grande soddisfazione E L'attività della Casa della Musica Continua E speriamo di riuscire a trovare Tantissime occasioni Per divulgare la musica moderna Di tutti i generi Di tutti gli stili E con la musica Chiudiamo questa edizione Di Occhio alla Notizia Grazie per essere stati In nostra compagnia Vedete Insomma Impressione Il numero Per le segnalazioni Sempre importantissime Per noi E a seguire Dopo il telegiornale Ci sarà In Cucina con lo Chef E poi uno speciale Domattina L'informazione torna Con Occhio ai giornali Alle 7 e 30 Buona serata A tutti voi Buona serata